La Madonna della Bruna visita i comuni del Vicariato del Mare, un'occasione straordinaria di preghiera e raccoglimento, la peregrinazio per tutte e tutti i fedeli che in attesa dei solenni festeggiamenti del 2 luglio potranno condividere e partecipare a un momento di grande devozione dedicato a Maria Santissima della Bruna. L'effigie della Santa Protettrice domenica è stata accolta e stazionerà a Metaponto di Bernalda per una settimana fino a domenica 21 aprile. Successivamente sarà a Montalbano Ionico da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio, poi a Scanzano Ionico, Monte Scaglioso, Marconia Pisticci, Pisticci Scalo e Craco. Le comunità ed i sacerdoti hanno organizzato momenti di preghiera in tutti i comuni. Domenica il primo appuntamento nella piazza della stazione di Metaponto dove la Madonna proveniente da Matera è stata accolta alla presenza delle autorità civili e militari del comune.